ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video oggi riporto benvenuti in un nuovo video dicendiamo a staccare qualche elica e voi il posto l'avete visto ma oggi come dico sempre mi sento un poco più carico dalle altre volte quindi vediamo di andare a spaccare qualche elica il posto è questo un po' Grazie. 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 E cambiamo queste eliche che le abbiamo scassate dalla finestra, ora sono però con la Lipo Ovonic che sinceramente mi fa cagare. Ha una risposta del gas proprio sembra strozzata. Va bene, proviamo con la Lipo Ovonic. Grazie. 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 Grazie.